Il Presidente della Regione Il Presidente della Regione Nuovo blitz degli agenti di polizia locale di Treviso al Grattacielo di Via Pisa Trovate 5 persone non autorizzate, sanzionate i proprietari Intanto in arrivo in città 12 nuove telecamere per la sicurezza A Santa Bona per la quarta volta i ladri hanno portato via il raccolto di una famiglia Che oltre alle serre ha una piccola rivendita Rubati oltre 100 kg di verdura, piante distrutte, la famiglia in ginocchio Da Mom malvia il rimborso per gli abbonamenti degli autobus non utilizzati A causa del lockdown e per settembre garantita la capienza dei mezzi al 100% Telespettatori di Antenna 3, dunque la pagina trevigiana dei nostri telegiornali Si apre con il maltempo che ha colpito oggi tutta la zona della Pedemontana Fra poco vedremo anche il disastro nella zona del Bassanese e i confini con la Marca Ma concentriamoci allora sulla Pedemontana trevigiana Allagamenti di strade, abitazioni, smottamenti, colati e detriti Da Cavaso del Tomba a Cornuda a Pederobba Il racconto di Francesco Cerò Un violento nubifragio si è abbattuto all'ora di pranzo sulla Pedemontana trevigiana Provocando allagamenti e risagi dal Grappa fino a Vittorio Veneto Pioggia torrenziale accompagnata in alcuni punti anche da Grandine Pochi minuti che sono bastati a saturare la rete idrica Con allagamenti di molte strade come questa a Vittorio Veneto Ma è nella zona di Pederobba, Cavaso e Monfumo che il nubifragio ha colpito più duramente Questa l'intensità di pioggia e Grandine a Covolo di Pederobba Tutti i canali che scendono dal Monfenera e dal Monte Tomba si ingrossano Allagando ampi tratti di campagna e vigneti ed alcuni tratti di strada Questa la rotatoria di Pederobba dove un'auto è rimasta bloccata dall'acqua Nel territorio di Monfumo esonda il torrente Muson in località La Valle Ma tutti i colli della zona sono disseminati da tracimazioni sparse di torrenti e canalette di scolo Decine gli interventi dei vigili del fuoco, smontamenti ma soprattutto colate di fango e detriti dai versanti Che si sono riversati su strade e hanno invaso alcune abitazioni Questa è la scaldinata della chiesa di Pederobba Molte le chiamate di soccorso, particolarmente da Cavaso del Tomba Qua è pieno dappertutto, una roba impressionante Era questo il garage, il garage era pieno Adesso mi sentirei a tirarci l'acqua dal suo postale Qui si è tutta l'acqua che correva giù dove ci sono tutti i detriti fermi della sabbia E qua sotto Ho cominciato a tuonare fortissimo, ha piovuto tantissimo E a un certo punto abbiamo sentito un boato E questo boato, logicamente, tempestava E ha cominciato a scendere l'acqua da là Che sembrava che qualcuno la buttasse giù dalla stradina E hanno cominciato a scendere i detriti Abbiamo visto l'acqua entrare con la porta chiusa in casa Abbiamo detto qua c'è qualcosa che non va E siamo usciti e c'era tutto lagato Vere e proprie bombe d'acqua Che mettono a dura prova la tenuta del territorio E pur funzionando tutto abbastanza bene In alcuni punti ci sono state delle situazioni critiche Sotto osservazione alcuni corsi d'acqua nella valle Che sono arrivati proprio fino al limite E li abbiamo tenuti sotto osservazione Come il torrente Curogna Che solo per pochi centimetri non è esondato in questo punto Minacciando le vicine abitazioni E causando comunque la momentanea chiusura della provinciale Strade eragate ancora una volta anche a Cornuda Così la zona vicina una stazione ferroviaria Scene impressionanti che fanno il paio Con quelle che vi mostriamo fra pochissimi comori Che riguardano la pedemontana nella zona del Vicentino E quindi il Bassanesi, i comuni di Solagna, Bassano, Pove del Grappa Davvero immagini impressionanti che vi mostriamo in questo servizio Impressionante È un fiume Grazie a tutti 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 Lasciano poco spazio alle interpretazioni Il turista alzandosi Urta il piede dell'opera danneggiando tre dita L'uomo se ne accorge Fa finta di nulla Si allontana Torna indietro forse a verificare l'entità del danno Per poi allontanarsi definitivamente dalla sala Grazie ad un'attenta indagine I carabinieri della stazione di Pieve del Grappa Sono riusciti ad identificare il turista austriaco autore del danneggiamento Le indagini effettuate dai militari dell'arma in collaborazione stretta con la direzione del museo Hanno permesso di identificare l'autore del danneggiamento in un turista austriaco cinquatenne che è stato localizzato e contattato in Austria Fondamentali per risalire al turista le immagini delle telecamere ed il registro dei visitatori Che avevano regolarmente prenotato la visita via mail come da procedure anti-covid Individuata la signora che aveva effettuato la prenotazione I carabinieri le hanno spiegato la gravità dell'accaduto A quel punto la donna in lacrime ha rivelato che quell'uomo in maglietta verde era il marito Che resossi conto del danno provocato Si era allontanato ma ora, vista pure l'eco internazionale dell'episodio Si scusava ed era pronto a prendersi le proprie responsabilità Ed infatti, poco dopo, il cinquantenne ha inviato ai carabinieri la fotocopia dei propri documenti Ed un accorato messaggio Messaggio inviato dal turista anche a Vittorio Sgarbi, presidente della Fondazione Canova di Possagno Rimango a completa disposizione per questo incidente, precisa il turista nella mail È stato un comportamento irresponsabile da parte mia Le conseguenze non mi erano note Pertanto ho continuato normalmente la visita al museo e l'intero soggiorno in Italia Non sono fuggito Il cinquantenne chiede quindi informazioni sui passi che sono necessari da parte mia In questa situazione per me molto spiacevole E per la quale in primo luogo conclude Mi scuso in tutti i modi Nel frattempo tutta la documentazione sul caso È stata inviata dai carabinieri alla procura di Treviso Che coordina le indagini Una letta di scuse che è arrivata anche alla gipsoteca di Possagno Sentiamo allora la direttrice Si è scusato ovviamente Dicendo appunto che non si era reso conto E vediamo come andrà Come andrà? Beh da parte nostra ci muoveremo per avere il risarcimento dei danni E speriamo che la giustizia faccia velocemente il suo corso Per poi poter pensare di intervenire sull'opera danneggiata E di procedere con il restauro Certo che abbiamo fatto e dovremo fare una riflessione in merito E' anche vero che contro l'ignoranza e l'irresponsabilità poco si può fare Nel senso che possiamo ovviamente potenziare quelle che sono le misure di sicurezza Però poi non ci saranno mai abbastanza protezioni Mai abbastanza misure di sicurezza Per evitare il gesto di appunto un irresponsabile Ancora la cronaca, nuove rivelazioni sulle indagini del sostituto procuratore Davide Romanelli Che sta indagando sulla morte del piccolo Tommaso Tiverone Il bimbo di soli 4 anni Travolto ucciso dal cancello della nuova abitazione Secondo la procura il cancello era sprovvisto dell'ultimo bullone Quello della chiusura Motivo per cui si sarebbe staccato Travolgendo il piccolo Un unico bullone che potrebbe non essere mai stato fissato Oppure fissato ma rimosso Ora la procura sta cercando di capire perché non fosse presente Questo elemento che di fatto serviva proprio a tenere stabile il manufatto Domani alle 9.30 Intanto i funerali alla chiesa parrocchiale di Dosson E dalla tragedia del piccolo Tommaso Alla tragedia della piccola Cloela Bimba Ricorderete di origini ganesi Morta martedì della scorsa settimana Per una improvvisa crisi respiratoria a Santa Lucia di Piave Ascoltammo e vediamo nelle immagini Le parole strazianti del papà Proprio qualche giorno fa L'Ulss 2 ha effettuato il riscontro diagnostico Sul corpo della piccola Sono stati prelevati dei campioni Che verranno poi sottoposti a esame Verranno fatti degli approfondimenti anche genetici Volti a stabilire la causa esatta Del decesso di questa crisi respiratoria Torniamo a Treviso adesso Un nuovo blitz della polizia locale Parliamo di sicurezza Alla grattacielo di via Pisa Il blitz è scattato alle 6.30 questa mattina Al grattacielo di via Pisa Da tempo attenzionato dagli uomini del comandante Andrea Gallo Agenti della polizia locale Hanno settacciato una decina di appartamenti Per verificare la presenza non autorizzata di ospiti Un sospetto che si è rivelato fondato Sono state trovate 5 persone non dichiarate Dai proprietari degli appartamenti Rischiano il fatto i proprietari E anche gli affittuari Di ricevere una sanzione di 200 euro E' naturalmente importante essere presenti in via Pisa E soprattutto in questo grattacielo Perché un anno fa abbiamo trovato una situazione Veramente molto molto preoccupante Esattamente un anno fa scattavano i primi massicci accertamenti Al grattacielo dopo le segnalazioni dei residenti Che avevano denunciato la presenza di droga C'erano situazioni di spaccio C'erano siringhe per terra C'erano auto abbandonate Ecco in un anno via Pisa è sicuramente rinata E basta passare in quella zona E vedere che c'è stata anche una riqualificazione dell'intera area Un lavoro realizzato anche grazie al supporto di residenti del grattacielo E se la zona di via Pisa diventa così via via più sicura Buone notizie anche per il resto della città Con l'installazione di nuovi occhi elettronici Con queste nuove 12 telecamere La città di Treviso raggiungerà 150 punti videosorvegliati E' un grandissimo risultato Entro una settimana entreranno in funzione per l'appunto 12 nuovi punti Largo Porta Altinia, Isola della Pescheria Via dei Pescatori, Riviera Garibaldi, Piazza delle Istituzioni Parco Uccio, San Pelaio con Piazza della Costituzione Le toritarghe sono stati posizionati in via Sant'Antonino e Strada Canizzano Telecamere collegate anche con Questura e Carabinieri Torniamo a parlare del coronavirus Adesso un velocissimo sguardo Al bollettino della sera della regione del Veneto Con 9 nuovi casi positivi in Veneto nelle ultime ore Due di questi ha Treviso I casi attualmente positivi sono 1066 Il 2077 invece restano i deceduti dall'inizio dell'emergenza A proposito di coronavirus La tensione alla Caserma Serena Domani il nuovo giro di tamponi atteso Intanto abbiamo raccolto lo sfogo di un altro telespettatore Residente ad Ossoni in un condominio vicino Alla ex Caserma Serena Sopportare l'invito del prefetto Maria Rosa Laganai Residenti che abitano a fianco dell'ex Caserma Serena Che nei giorni scorsi dal centro accoglienza Dove sono letteralmente blindati in quarantena i 293 ospiti A seguito del maxi focolaio emerso Hanno lamentato schiamazzi notturni e feste a volume alto Non uno ma tre giorni di feste notturne Ci segnala un nostro telespettatore E quell'invito del prefetto ad avere pazienza Viene mal digerito da chi ogni sera Vede quello che succede all'interno della struttura Come il signor Giuseppe di Dosson Che parla di 5 anni e un mese In cui la sopportazione è arrivata a livello Era già la terza sera consecutiva Quindi proprio C'erano già le due sere precedenti Che abbiamo sopportato E la terza sera non abbiamo proprio Abbiamo anche chiamato il 112 Il 113 Siamo scesi con i vicini di casa Delle palazzine, negli altri appartamenti L'ultimo episodio stanotte Ma racconta di altre risse consumate negli anni In cui non solo sono arrivati alle mani Ma addirittura si sono presi a sprangate Questa notte Non c'era musica Ma si sono presi a pugni Hanno gridato Era stata una cosa tremenda Fino a 1,5 Ci rende partecipi del suo basta E della preoccupazione sanitaria Che riguarda tutti Fa eco a quello che da giorni Ripete il sindaco Mario Conte Che sta procedendo legalmente Per chiedere i danni Al ministero dell'interno Dispiace invece Sentire I dipendenti Della cooperativa Dichiarare che All'interno della struttura Non vengono utilizzate mascherine Non c'è il distanziamento sociale Mancano le regole base Proprio quelle regole Che da mesi Richiamiamo ai nostri cittadini Anzi Multiamo i nostri cittadini E a volte Chiudiamo anche le attività Perché non rispettano Quelle regole Dispiace che Proprio all'interno Delle strutture ministeriali Queste regole Non vengano rispettate Danni di immagine Per la città Per una ripartenza Del turismo Già in salita Difficili da quantificare Sia in termini economici Sia da pesare In termini di pazienza E domani Riflettori puntati Nuovamente sul centro Per la nuova tornata Di tamponi E sempre In ambito Tema covid Post covid E post lockdown Ecco come ottenere Il rimborso Per gli abbonamenti Del mom Non un rimborso In denaro Ma un prolungamento Della durata Dell'abbonamento Dell'autobus Per un periodo Corrispondente A quello durante il quale Non è stato utilizzato Causa lockdown Una misura Molto attesa Dai cittadini Cui la mobilità Di marca Risponde così Dal primo agosto Al primo settembre Sarà possibile Fare richiesta online Sul sito Mobilità di marca Punto it O in una delle biglietterie Abilitate tra Treviso Conegliano Vittorio Veneto Castelfranco Montebelluna L'iniziativa è rivolta A studenti Lavoratori E alle fasce deboli Tra le formule Messe in campo Non c'è solo Il prolungamento Degli abbonamenti Ma anche un ristoro Per chi ha completato Il ciclo di studio Per i lavoratori In smart working In questi ultimi casi Si può richiedere Un voucher Cioè un biglietto Non nominativo Che sarà disponibile Dal 21 settembre Sono previste circa 30.000 richieste in tutto Che a fronte di un impegno economico Non completamente compensato Dal fondo nazionale Dedicato ai trasporti Saranno evase Per il primo di settembre A garantirlo Il presidente Colladon Che fa il punto Anche sulle norme di sicurezza Anti-Covid Messe in campo Stiamo mettendo all'interno di mezzi Un sistema fotocatalitico Che permette Una sanificazione In tempo reale Di mezzi E per quanto riguarda la capienza Ci sono Vari di PCM E ordinanze Ma però Quella che in questo momento Ci garantisce L'implimento al 100% L'ordinanza Del governatore Zaia Che comunque è stata Prologata Fino al 15 di ottobre Un punto interrogativo Resta quello Relativo al potenziamento Delle tratte necessarie Per far fronte Alle nuove esigenze Di orari E sedi Degli istituti scolastici Misure ancora non comunicate In quest'anno scolastico Dove a poche settimane Dall'avvio Risulta tutto Ancora da pianificare Pochi istanti di pubblicità Poi di nuovo la cronaca Rieccoci in studio In diretta Di nuovo la cronaca Allora Gli hanno trovato in casa 48 piante Di varie dimensioni Di marijuana Nonché tutta l'attrezzatura Per la coltivazione Arrestato dai carabinieri Un insospettabile 56enne Di cappella maggiore Disoccupato E senza alcun precedente Con la giustizia Il blitz dei militari Di Vittorio Verito Ieri mattina A Santa Bona Invece torniamo Quindi a Treviso Una famiglia di agricoltori Letteralmente Presa di mira Dai ladri Non mi imposto più Tanta fatica E poi Ti vedi tutto distrutto Ti vedi tutto distrutto Perché Un conto è Se portano via Qualche chilo Hanno un po' di riguardo Per le piante Però Qua è tutto distrutto Quarta volta Quarto blitz Scassinano il lucchetto Del cancello Entrano con le cariole Per portare via Più raccolto possibile Lei è Maria Angela Una donna Che ha dedicato La sua vita A questo lavoro Sui campi Da quando sono grandi Così Da 10 centimetri Io sono sempre Accovacciata Finché non vengono 40-50 centimetri Sono sempre Accovacciata Per farle passare Pianta pali Tiraretti Sono sempre da sola Maria Angela E mamma Matilde Non c'è uno solo Che delle volte Un'altra che ho visto L'impronta E si passa a Carioia E ti vedi Erode impronti A Carioia La prima volta Hanno fatto razzia Nelle serre Una settimana dopo Sono entrati direttamente Nel locale adibito A rivendita Questa volta Hanno direttamente Divelto la rete Non curanti del cartello Che avvisava Della presenza Di telecamere Pomodori Ciliegina Daterino Quello che trova E fa Non basta Perché dove Chi passa E scavesa E tira su tutto Che tu capisci Adesso siamo A 12 volte Su 4 anni La dodicesima volta Una famiglia Esasperata Perché i ladri Non rubano Soltanto il raccolto E con lui Mancati soldi Che da questo Avrebbero potuto guadagnare Ma perché rubano Anche il loro tempo La fatica Di giornate interminabili Passate a curare l'orto E a coltivare Quelle sementi Distruggono E dopo io non posso Più raccogliere niente Hai capito Perché i guanti Sono due persone Che stanno lavorando E vivono con quello Ogni settimana Ogni settimana Dai basta Non è anche più fiducia Dell'istituzione Ecco Adesso le notizie Dal Belunese Due notizie di cronaca In apertura Perché poco prima Di mezzogiorno Le ricordano del suo Indipieve Di Cadore Decollato In direzione di Roccapietore Dove tra le località Le Grazie Caracoi Cimai Facendo retromarcia Un'auto Era finita Nella scarpata Rovesciandosi Diverse volte E fermandosi Sul terreno Pianeggiante Una cinquantina Di metri Più in basso A dare l'allarme Dei testimoni Che poi avevano aiutato A uscire dall'abitacolo Miracolosamente Ferita Ma in modo lieve La donna La guida Una 59enne Di Venezia Sbarcati Con un verricello Di 60 metri Tecnico di elisocorso E di keep medic Hanno subito prestato Le prime cure All'infortunata Che aveva riportato Un probabile trauma Toracico Ma fortunatamente Miracolosamente Aggiungiamo noi Viva Dopo il volo Di 50 metri Si concentreranno Invece domani Nella zona di Piandavena Col Melon Le ricerche di primo De Bortoli Il 56enne Di Pedavena Di cui non siano più notizie Dal 29 luglio scorso Quando Zaino in spalla È uscito a piedi Dalla propria abitazione A Pedavena Una testimone Lo ha visto scendere A Piandavena Dall'autobus Che sale a Croce Daune E nella zona di Col Melon La famiglia Ha delle proprietà E sarà questa L'area di indagine Di domani Quindi vedremo appunto Quale sarà L'esito Di queste ricerche Ovviamente La famiglia In grande apprensione Torniamo a parlare Della polemica Sulle previsioni meteo Abbiamo visto Un servizio Proprio su questo Dopo la bufera Scoppiato Lo scorso fine settimana Oggi a parlare L'assessore al turismo Federico Caner Che pensa A una nuova app Dedicata Alla montagna Previsioni meteo Errate Una polemica Che si ripresenta Puntuale Ogni estate E se negli anni passati Sulle barricate Erano saliti Gli operatori Della costa veneta Quest'anno La bufera Si è spostata Sulle dolomiti A gridare Allo scandalo In una stagione Già pesantemente Condizionata Dal covid È stato Il gestore Del rifugio Coldai In Zoldo Con il suo post Su facebook Grazie a Arpav Dolomiti È la seconda domenica Che ci rovinate Il turismo Scrive Seguito Da decine Di commenti Di solidarietà Oggi È arrivata La precisazione Di Arpav Dolomiti Il bollettino Emesso alle 13 Di sabato Non prevedeva Una giornata Completamente compromessa Anzi Descriveva Anche la possibilità Di sprazzi Di sereno Sulle dolomiti Nella mattinata Di domenica Sebbene In un contesto Già lievemente Instabile Solo alla mattina Della domenica I modelli Mostravano Un'inversione Di tendenza Escludendo La possibilità Di precipitazioni Entro la mattina Stessa Che il tempo In montagna Cambi velocemente Si sa Di qui L'importanza Di bollettini Affidabili A breve termine Ecco dunque L'ipotesi Dell'assessorato Al turismo Della regione Veneto Di creare Anche per le dolomiti Un'app Dedicata Io penso Che sarebbe Il caso Di creare Anche in montagna Un'app Come quella Che abbiamo fatto Per la costa Veneta Dove non solo Abbiamo dato Informazioni importanti Per i servizi Turistici Ma abbiamo Messo Una centralina Per ogni località Turistica Della costa In maniera Da avere Una situazione Molto ma molto Attendibile Su ogni località E quindi dare Al turista Che sia Veneto Italiano O straniero In tempo reale Quella che è la situazione È necessario Anche in montagna Prevedere E dare informazioni Al massimo Nei tre giorni successivi E non a una settimana O addirittura Dieci giorni Come qualcuno fa Perché non sono attendibili E rischiamo Che poi i turisti Vadano a cancellare Le prenotazioni E a proposito Di previsioni del tempo Vi lascio al meteo E ci salutiamo Grazie per averci seguito Arrivederci Benvenuti al meteo Vediamo insieme Le previsioni Per mercoledì 5 agosto Sul Veneto Residua variabilità Con spazi di sereno Più ampi All'inizio Sulle zone interne Alcuni addensamenti Nuvolosi Soprattutto sulle zone Più a sud-est Nelle prime ore E localmente Su quelle montane Nel pomeriggio Possibili locali Pioggia in mattinata Temperature minime Tra 14 e 17 Massime Tra 26 e 28 Gradi Sul Friuli Venezia Giulia Tempo variabile Su pianure meridionali Pianure settentrionali Prealpi Alpi Cieli molto Nuvolosi al mattino Con deboli piogge Graduale attenuazione Della nuvolosità Ed assorbimento Dei fenomeni Nel corso della giornata Temperature minime Tra i 17 e i 20 gradi Massime Tra i 24 e i 27 gradi Sul Trentino Alto Adige La pressione Torna ad aumentare Giornata in prevalenza Poco nuvolosa Salvo presenza Di nubi sparsi Al mattino Suprealpi E dolomiti Nubi sparse Alternate a schierite Temperature minime Tra i 14 e i 15 gradi Massime Tra i 27 e i 29 gradi Dal Meteo è tutto Arrivederci